Sindaco Luciani, tornato a Palazzo di Città dopo l'autosospensione, perché questa decisione e perché aveva deciso soprattutto di autosospendersi? Intanto si trattava di un'assenza, quindi una comunicazione di un'assenza che ai sensi del Tuel conferisce i poteri al Vice Sindaco, così come è stato in questa settimana. Il perché l'ho dichiarato più volte, perché la mia maggioranza mi ha fatto un po' sentir meno l'apporto positivo che ho avuto in questi sette anni, perché sono sette anni quasi che faccio il Sindaco, per fargli riflettere sul fatto che noi siamo stati eletti per fare le cose, siamo stati eletti per migliorare la città, cosa che stiamo facendo quotidianamente, e che non si può dedicare il tempo a discussioni inutili fatte da sé, ma, però... Problemi risolti a questo punto? In parte, perché diciamo che ho risentito un enorme calore da parte dei cittadini, ma anche la maggioranza si è un po' compattata dietro questa mia richiesta, c'è ancora qualche dubbio che scioglieremo nel prossimo Consiglio Comunale, lì si vedrà chi è con noi e chi è contro di noi. Per il futuro, lei aveva parlato tempo fa di una sua possibile candidatura alla Regione, tutto tramontato, oppure questo pensiero, questa volontà c'è sempre? Io ho detto una cosa, ho detto che ero a disposizione, a disposizione di questo territorio, perché mi sentirei pronto a fare questo salto. Chiaramente ci devono essere i presupposti. Oggi non vedo i presupposti, io sono gravito nell'area di centro-sinistra e vedo una gran confusione, sia sulle date nelle quali si vota, sia sul percorso da compiere, e quindi sono qui in attesa a vedere quello che succede. Io quello che faccio lo faccio per i cittadini, lo faccio come spirito di volontariato, non per occupare le poltrone, e quindi sono qui sereno a fare il sindaco e continuerò a fare il sindaco se non ci fossero i presupposti per fare altro.